Causa lavoro in corso da parte del NENEL, giovedì 19 gennaio disagi in alcuni quartieri ed una scuola chiusa a Gravina in Puglia. Nella giornata di domani infatti, dalle 8.30 alle 16.30, diversi di uni resteranno senza corrente per la necessità del NENEL di effettuare alcuni interventi di manutenzione sui propri impianti, a seguito della recente ondata di maltempo che ha colpito violentemente la città. Poiché i disservizi riguarderanno anche l'istituto comprensivo annunzio in gana morte, su istanza della dirigenza scolastica dell'istituto Angela Mendola, il sindaco Alessio Valente ha emanato un'ordinanza con la quale si dispone la chiusura dell'istituto per l'intera giornata del 19 gennaio, in considerazione dell'enorme disagio che si avrebbe a causa dell'interruzione dell'LG elettrica. Il provvedimento è stato adottato dopo aver preso atto della mancanza di soluzioni alternative.